Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Una persona transessuale è stata trovata morta oggi a Roma in un appartamento di Via Durazzo, nel quartiere Prati. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata ritrovata a letto con una profonda ferita d'arma da taglio al petto. L'episodio è avvenuto nella stessa zona della capitale dove questa mattina sono stati trovati i corpi senza vita di due donne di origini cinesi, anche se uccise probabilmente a coltellate. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se ci siano collegamenti tra i due episodi e stanno vagliando l'ipotesi che dietro gli omicidi ci possa essere la stessa mano. Le indagini si starebbero concentrando in particolare sui tabulati telefonici delle tre vittime, per scandagliare i contatti avuti nelle ultime ore di vita con i clienti. Per quanto riguarda la morte delle due donne cinesi, pare è dalle prime ricostruzioni che una delle vittime si trovasse su un chienerottolo dell'edificio, mentre l'altra era all'interno di un appartamento, in cui, secondo Repubblica, le due donne si prostituivano. La casa è situata in via Riboti e sarebbe stata ritrovata dalla polizia piena di sangue, ma non è ancora chiaro come le due siano morte. Una prima ipotesi di indagine è di duplice omicidio. Ad avvertire la polizia è stato il custode del palazzo. Dalle prime testimonianze raccolte dalla polizia, però, pare che nessuno degli altri inquilini abbia sentito delle grida. A svelare maggiori dettagli potrebbero essere i filmati delle telecamere di vigilanza installate a Piazzale Clodio, situato vicino ai due luoghi del delitto, via Durazzo e via Riboti. Abbiamo sentito solo arrivare le macchine della polizia. In pochi minuti ne sono arrivate tante, o ha raccontato a Lanza un commerciante della zona. Questa è una zona tranquilla, a pochi metri dal tribunale, è davvero preoccupante quanto avvenuto. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.